bella a tutti ragazzi io sono tuzzo e oggi siamo in un nuovo video su metaslag x ragazzi in compagnia del buono ma bruttissimo edomar ma dai intanto vediamo il metaslag quanto bene tradotto su sta versione per pc e no perché ce l'ho in inglese e spero che metto la lingua in italiano comunque ragazzi metaslag x lo potete trovare su steam e purtroppo ottimizzato da cani per pc ma sarebbe bene il camminato e giocarci la vero si va bene però pretendiamo anche troppo mi sa non siamo ricchi quindi sicuramente non potrò mai farlo in attesa di iniziare il divertimento posso fare start game oppure ritornare ciao smith intanto salutiamo smith è un audio non era una chiamata quindi non so andiamo andiamo in questo gioco sentirete spammare tanto quindi fammi mettere il microfono dall'altra parte ma no ecco così magari sentite anche meglio me purtroppo ah ah lol una scimmia una scimmia incredibile tra l'altro ma questo cosa fa tu li sta dando in scherzo dice oh allora io se vuoi ti compro il stai dando la partner stai dando la partner tu ma dai è andato via e l'altro lo guarda e che dice aspetta ma dove è andato morti i cani l'acciulazzo l'acciulazzo visto che sto gioco è ottimizzato male purtroppo lagherà lagherà pur pure spesando tipo dieci dieci mega forse ti ha dato delle banane una delle bananone ma perché io continuo a morire guarda che devo usare il continuo guarda te che lavori guarda che lavori ah ah ok guarda che strafanti guardami che cazzo sto facendo ha tirato una pedata fortissimo gli ha fatto no male di più enemy tracer ma i'm already tracer what about windermaker i'm already tracer what about windermaker il meme è più brutto della storia tra l'altro oh la il primo livello è andato ma guarda quanto quanto vibri e tu anche ah ma possiamo andare avanti non è finito c'è un bambino lì c'è un bambino lì molto pacifico tranquillo lo prendo prendi il bambino per favore ma cosa fa se questo video arriva a 100 mi piace compriamo un camminato e lo giochiamo con un camminato va bene va bene arriva a 100 mi piace però magari quando diventerai un canale big non vale più la cosa e52 thank you thank you heavy machine gun no halleluia madonna guardami guardami che felice che sono ma perché il cam summarize non ho vero e gioco perky ho finito li vedo col corco ne ti rubo anche tutte le armi ma 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 sai messo a bere ha ma sei messo a bere non posso andare avanti ma che palle ora che faccio che faccio quando sparo l'altro aspetta aspetta Ah si, ah 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 i capelli E' VIVO! E' VIVO VIVO! Ah le mummie! Siamo dei lupi cazzo Sono una mummia E sono io nel video con la che faccio l'audio che poi metti il lupo Ah si? Serviva a me la cura, serviva a me la cura bastardo Mi domanda che si ricorda dei video vecchi anche Ma da dove è venuto fuori quello? Ma se lancio la bomba cosa succede? Ah cioè ci mette 4 mesi però la lancia Comunque ragazzi secondo me è un gioco che è da avere perchè è figo In compagnia è fantastico In più abbiamo pagato poco quella volta quindi AIA! Ciapa qua Ma una gallina! Ma sono diventato uno zombie Guarda i tuoi, infatti che vedo dalla signorina Pronto signorina? Sta a posto? Ma... Quanti punti? Quanti punti ha dato? Scappa scappa, scappa davanti a nulla Ora lascia lascia, speedrun, speedrun Aspetta aspetta, no un par di palle Aspetta qualche un po' Aiuto! Ok Ok Ma sei un buffo Anche io sono un buffo Sono umano, bitch Lui che era umano un casca giù un coglione Che è questo? Cosa stai facendo? Eh... Ten ten Ah ten ten Ma sto... Sto saltando! Aiuto! Aspetta hai salto sotto Nooo! Eh scusa Invece sarebbe anche l'achievement da fa... Ma va a cagare AAAAAA Aspetta adesso, adesso te lo faccio rivedere AIUTO! L'ho schivato, l'ho schivato! Allora vedi c'è una mosca che mi dà fastidio Aspetta che la levo Gola Con tanto fiatto in gola Nananananola Mi mangio la nocciola Perché è buona